Tutto inizia da qui, perché sappiamo quanto siano importanti i nostri amici a quattro zampe nella tua vita quotidiana. REF è il modo di mostrare la cura e la passione che chi lavora a contatto con i cani mette nella sua professione, nel massimo rispetto di questi splendidi animali. Questa etichetta significa molto più che qualità. Affiliarsi a REF significa diventare ambasciatore di una grande famiglia, accomunata dal rispetto e dalla passione per il mondo della cinofilia. Stiamo costruendo una community di professionisti per trasmettere l'importanza di una relazione sana e rispettosa con i cani. Per voi tantissime possibilità di far crescere la vostra attività, beneficiando della visibilità del nostro portale web e delle tante offerte commerciali garantite ai nostri affiliati. Vi aspetto su refcommunity.it. Diventa anche tu il miglior amico del cane.